Leonardo Silva Revisore Parliamo di dati, perché ogni giorno veniamo bombardati da dati di ogni tipo, economia, turismo, sport, meteo, dalla tv, dai giornali, dai social, dal web. Ma cerchiamo di capire quanto incidono veramente i dati sulla nostra vita. Ci è mai capitato di cambiare destinazione per un weekend dopo aver visto le previsioni meteo? Ci è mai cambiato di cambiare una struttura ricettiva dopo aver letto le recensioni? Io sono il direttore del Centro Studi Turistici di Firenze. Il Centro nasce 50 anni fa. Noi nel 2025 festeggeremo 50 anni di attività. Non siamo una start-up. E abbiamo fatto dei dati, sin dall'inizio, lo strumento di analisi per capire come il turismo cambia. E cambia in tempi anche molto veloci. La lettura attenta di questi dati ogni giorno ci permette di poter suggerire ad amministrazioni, ad imprese, le migliori decisioni da prendere per lo sviluppo del settore. Sì, perché ogni giorno dobbiamo prendere delle decisioni nelle famiglie, nelle imprese, nelle amministrazioni. Certe volte sono decisioni banali, certe volte sono decisioni di vitale importanza. E per poter prendere delle decisioni informate abbiamo necessità di due elementi fondamentali. Dati, dati di qualità, ma la capacità di lettura e di analisi di questi dati. Perché è solo attraverso la capacità di lettura di questi dati che i dati si trasformano in informazioni spendibili sul mercato. Ma i dati, oltre a prendere decisioni, cosa ci permettono di fare nella nostra vita? Sicuramente ci permettono di monitorare i progressi, i risultati delle azioni che mettiamo in campo. Ma ci permettono allo stesso tempo di capire i comportamenti di consumo e certe volte anche di anticipare i comportamenti di consumo della domanda e quindi di rilevare delle tendenze, dei trend. Perché oggi siamo in un mondo in cui le cose, le persone, le idee, gli scenari cambiano in tempi veramente veloci. E la capacità di comprendere e anticipare questi cambiamenti è sicuramente un fattore di successo delle destinazioni e delle imprese. Oggi i dati hanno acquisito un valore economico molto importante. Non a caso si parla di economia della conoscenza. Però per poter leggere attentamente i dati abbiamo necessità di aumentare il nostro livello di capacità di analisi di questi dati. Perché è solamente attraverso l'analisi che riusciamo poi a definire tutta una serie di informazioni. E arriviamo al turismo. Il rapporto tra turismo e dati. Negli ultimi 50 anni il turismo è cambiato e è cambiato in maniera importante. E i dati hanno registrato sempre questi cambiamenti. In certi casi proprio hanno anche anticipato questi cambiamenti. Se noi pensiamo agli anni 70, siamo qui in Versilia in questa location stupenda, e pensiamo a tutti i film degli anni 70 che raccontavano la villeggiatura in questo luogo, il termine più utilizzato non era turismo, ma era villeggiatura. Cioè la vacanza lunga in una destinazione. Negli anni 80 invece il turismo è cambiato, è aumentato il sistema di intermediazione, i tour operator sono cresciuti, in Italia si cominciava a cercare destinazioni fuori dai confini, erano tutte informazioni che derivavano da indagini che venivano fatte sulla popolazione con gli strumenti di quel periodo, che evidenziavano questa crescita importante dei viaggi verso mete lontane, ma evidenziavano anche alcuni aspetti critici. Qui un noto tour operator italiano lanciò uno spot, perché l'aspetto critico era la ricerca di sicurezza. Non so se vi ricordate il famoso spot del turista fai da te, che in qualche modo è diventato un cult della comunicazione in campo turistico. E ha fatto sì che questo spot, basato su indagini, su dati, ha dato un ruolo prioritario a questo tour operator nell'organizzazione di viaggi. Il turismo continua a cambiare. Negli anni 90 non si parla più di turismo, ma si parla di turismi. Gli anni 90 sono gli anni in cui emerge e cresce con forza un fenomeno, che è il fenomeno dell'agriturismo. In Italia, da noi in Toscana, che chiaramente è l'opportunità che è stata data attraverso norme alle aziende agricole e di poter fare anche attività turistica. E sono gli anni in cui quindi si diversificano le varie forme di turismo. E arriviamo ai primi anni del nuovo millennio, che sono gli anni in cui cresce in maniera importante l'utilizzo di internet, aumentano i voli low cost. Tutto questo fa affermare l'auto organizzato. Quindi la ricerca di mete che vengono fatte in auto organizzazione. Poi piano piano il turismo cambia, si arriva al turismo globale dei nostri giorni, è il turismo dei selfie, è l'over turismo, crisi covid, che in qualche modo abbassa notevolmente i flussi turistici nelle varie destinazioni, poi riparte il turismo e il turismo in qualche modo cambia e i dati sui comportamenti di consumo della domanda degli ultimi due anni fanno emergere nuove tendenze. Il termine experience, che in qualche modo esce in maniera forte nel 2022 e nel 2023 e prosegue nel 2024. tanto che un noto tour operator online ha lanciato un climb molto importante nel 2022, almeno una volta nella vita, prova queste esperienze. Ecco, tutto questo in qualche modo ha permesso al turismo di diventare un motore di crescita economica per territori, per destinazioni e per imprese. Oggi, secondo noi, è giunto il momento di porre attenzione allo sviluppo tenendo conto di quelle che sono le emergenze ambientali che spesso e volentieri andiamo incontro. In particolar modo verso l'uso, l'utilizzo dell'acqua, dell'energia che in qualche modo stanno provocando in alcune destinazioni grandi problemi. Pensate a quello che è successo in Sicilia quest'estate, pensate a quello che è successo, non so se lo sapete, sul Monte Argentario, che per alcuni giorni il consumo elevato di energia ha bloccato tutto il paese e quindi non è un problema che riguarda solamente il turismo, ma tutta la comunità di quel paese. E quindi diventa fondamentale oggi, sempre attraverso un approccio basato sui dati, cominciare a pensare e a suggerire alle amministrazioni le azioni da intraprendere per una gestione migliore del settore, per sempre di più aumentare l'interazione fra turisti e residenti, finalizzati al miglioramento della qualità della vita. Torniamo alla domanda iniziale. La domanda iniziale è ma quanto incidono i dati nelle nostre scelte turistiche? Allora, io sono convinto che i dati hanno inciso molto nelle scelte che ognuno di noi ha fatto tutte le volte che doveva programmare una vacanza. E chiaramente tutte le volte che facciamo una scelta noi lasciamo tracce di quello che facciamo. Se noi pensiamo che la stragrande maggioranza dei dati nel settore turismo derivano dalle azioni che ognuno di noi fa nelle varie fasi del viaggio. Pensate a quando programmiamo il viaggio, la cosiddetta fase del sogno, facciamo ricerche, cerchiamo immagini, testi, storie, lasciamo tracce. Quando lo viviamo, quindi arriviamo sulla destinazione, utilizziamo strutture, imprese, lasciamo tracce. Quando lo ricordiamo, pensate al valore che oggi hanno le immagini sugli strumenti social della destinazione. Tutto questo ci fa vedere, tutte queste esperienze che noi effettuiamo, ci fanno vedere un mondo diverso. Ma contemporaneamente lasciano tracce che servono alle destinazioni per poter programmare meglio il proprio prodotto, alle imprese per organizzare le proprie offerte, ma a tutte le altre persone che vogliono vivere le stesse esperienze in altri momenti. Ma quale sarà il turismo del futuro? Sicuramente l'intelligenza artificiale ci porterà un contributo forte, darà un contributo alle amministrazioni nel poter fare scelte sempre più precise. Sicuramente l'intelligenza artificiale contribuirà sempre di più a creare ulteriori dati che in qualche modo servono alle destinazioni alle imprese. Personalmente sono convinto però che questa frase di qualche anno fa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, sarà sempre un punto di riferimento importante per lo sviluppo del settore. Grazie. Applausi Grazie.